Maria Rita Parsi, quindi non sto a dire che io sono... le facciamo un applauso. Buonasera e grazie. 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 e dell'adolescenza si batte contro gli abusi e i maltrattamenti dei bambini e dei ragazzi e li tutela dal punto di vista giuridico e sociale. Per tutte queste ragioni e per tante altre che non voglio dilungarmi a diffondere, le trovate anche voi tranquillamente su internet o già le conoscete, e quindi vorrei lasciare la parola in particolare a lei, ricorderei però che nel 1986 ha ricevuto il titolo di Cavaliere al merito della Repubblica per tutto quello che ha fatto e sta facendo per i bambini. Nel 2007 il premio internazionale Pio Manzù ha ricevuto la medaglia della Camera dei Deputati, sempre per l'opera a favore dei bambini, e nel 2009 ha ricevuto il premio nazionale Paolo Borsellino per l'impegno, la coerenza e il coraggio nella propria azione sociale contro la violenza e l'ingiustizia e in modo particolare per l'impegno profuso in difesa e in promozione dei valori della libertà, della democrazia, della legalità. Io credo che conclusione migliore non la potremmo avere, concludiamo anche come festival l'unità d'Italia, San Francesco, patrono d'Italia e tutti questi valori noi li ritroviamo. Semplicemente, dicevo prima all'inizio, se non ritornerete come bambini è la paradigmatica conclusione di un festival francescano. Credo che, per quello che vi ho letto di Maria Rita, i bambini intesi come grande ricchezza della nostra società, come valori che ci devono insegnare a noi adulti e a tutta quanta la società, in onestà, in trasparenza, in stupore della vita, e mi fermo qui, sono valori umani, sono valori francescani, sono valori civili, quindi c'è di tutto e io lascio la parola a Maria Rita ringraziandola per la sua disponibilità. Innanzitutto, ancora una volta grazie di esserci. Volevo dire che io ho una mamma terziale francescana e sono cresciuta con San Francesco in casa praticamente, nel senso che mia madre aveva, intanto era una donna di idee molto aperte, profondamente laica, a differenza di mio padre invece che aveva un'ammirazione assoluta per Almirante. Noi a casa avevamo tutto l'arco democratico, che io ho completato quando sono diventata studentessa e uscita di collegio. Avevamo mio nonno che era monarchico in maniera proprio folle, monarchia, papalina, eccetera. mio papà che era almirantiano e mia mamma che era terziaria francescana. Mia madre era quella praticamente in casa che costituiva la, come dire, costa, ecco, con questo meglio? Dicevo che mia mamma costituiva in casa, rappresentava la democrazia, mia madre non sopportava nessun soppruso, nessuna dittatura, parlava costantemente contro il potere, diceva che il potere era qualcosa che doveva essere tenuto molto lontano, molto lontano perché comunque aveva sempre un collegamento stretto con il danaro. Lei aveva della povertà, nonostante fossimo una famiglia molto agiata, aveva della povertà, un rispetto profondissimo, non nel senso che rispettasse soltanto i poveri, ma diceva che era molto importante ridistribuire le ricchezze. Quindi quando noi avevamo qualche soldo in più c'era sempre qualcuno da accogliere o da seguire. Se noi avevamo della roba in più, l'avevamo usata, la davamo. Cioè l'insegnamento che ho ricevuto da mia madre è stato un esempio di solidarietà. Mia mamma attualmente ha 89 anni e ancora lavora, rimette a posto i suoi vestiti, dice che senza fare un atteggiamento di falsa umiltà, dice che tutti i titoli della terra non sono di nessun rilievo se tu non stai bene con la tua coscienza alla fine della serata. E che le cose più importanti della vita sono sicuramente affidare ai bambini e alla loro trasparenza iniziale. Mia madre dice sempre i bambini sono inizialmente trasparenti, vi ricordate come eravate da bambini? E costantemente quando io parlo con mia madre, che oggi torno a dire ha 89 anni, mia madre ogni volta dice ti ricordi quello che pensavi da bambina? E mi ricorda tante cose che io, mia sorella, i miei fratelli pensavamo da bambini. Allora io questo amore di mia madre per la giustizia, per il coraggio, per la lealtà, per scansare il potere, per non arricchirsi inutilmente che non serve a un accidente, per gli anziani, per i bambini, ce l'ho sempre avuto nel cuore. Ho sempre sentito che mia madre, anche quando io sono diventata nell'arco costituzionale quella di sinistra, con grande tormento di mio padre, con grande tranquillità di mia madre, con grande scorno di mio nonno, perché una persona di sinistra in casa non c'era mai stata, quando io sono diventata questa cosa qua ho capito che tipo di valori mi aveva passato la mamma, perché erano tutti i valori legati al Vangelo. E del Vangelo, scusate perché è molto importante questo, mia madre mi ricordava, essendo lei terziare Francesca, mi ricordava una parabola che mi ha molto colpito e mi ha sempre accompagnato. È la parabola di colui che aveva un campo, una vigna, molto grande. E la vorrei raccontare per iniziare a parlare della crisi di questo paese e di come attraverso i bambini e la visione bambino-centrica questo paese come il resto del mondo si potrebbero veramente trasformare. La parabola è la parabola del signore proprietario di vigna che si reca al paese e trova degli operai che stanno senza far nulla, sono lì in attesa di poter lavorare. Allora dice avete bisogno di lavorare, loro dicono sì, bene c'è la mia vigna, concordiamo un danaro, uno scudo e andate a lavorare alla mia vigna. Torna in paese anche all'ora di pranzo e trova altre persone che sono lì ad aspettare di trovare lavoro. Avete bisogno di lavorare? Domanda. Quelli dicono sì, bene andate nella mia vigna, andate a lavorare. Verso sera, prima ancora del tramonto, due o tre ore prima del tramonto, torna di nuovo in paese e vede che ci sono ancora due persone, due operai che non hanno lavoro. Allora chiama e dice avete bisogno di lavorare? Quelli dicono sì, ma è ormai quasi il calare del sole, non importa dice lui. Andate a lavorare nella mia vigna. Alla fine della giornata arrivano tutti gli operai che hanno lavorato nella vigna e il Signore dà uno scudo a ciascuno, a quelli che sono arrivati all'inizio, che hanno fatto quindi tutto l'arco della giornata e anche a quelli che sono arrivati alla fine, che hanno fatto soltanto due ore. Allora quelli che hanno cominciato a lavorare prima, uno soprattutto dice Signore, ma non è giusto, noi abbiamo lavorato tutta la giornata e tu dai lo stesso a queste persone che hanno lavorato e si sono affaticate soltanto due ore. E il proprietario della vigna dice tre cose importanti. Quanto avevamo pattuito stamane quando ci siamo incontrati con voi? Uno scudo. L'avete avuto? Sì. Allora voi siete a posto. Io ho mantenuto l'accordo che avevamo. Seconda cosa. Delle mie proprietà io posso fare quello che credo. Le amministro come voglio. Se voglio dare lo stesso agli operai venuti dopo, glielo do. La terza cosa, la più importante di tutte, dice Attenzione. Rivolto a quel operaio che ha protestato, a quel lavoratore che si è sentito offeso perché dice io ho lavorato di più e ha anche le sue ragioni. Lui dice Tu forse sei invidioso perché io sono buono? Questa domanda la rivolgo a tutti. Tu forse sei invidioso perché io sono buono? Perché l'invidia, l'invidia e l'orgoglio sono il peccato del diavolo. E sono proprio all'origine di tutto il dolore che c'è nel mondo. Oltre all'abuso nei confronti delle donne e dei bambini. E la terza cosa che il Signore della vigna dice è Ricordate che beati gli ultimi perché saranno i primi. Allora questa parabola che continuamente mia madre ci raccontava quando io dicevo Mamma ma scusa ma tu perché hai dato questo più a Daniela? Perché hai fatto... Daniela è la mia sorella. Oppure dicevo Adesso tu sei stato di più con mio fratello e non mi hai dato è Ma avevi promesso questo. E lei diceva sempre Fermi là Ti racconto la parabola Te lo ricordi la parabola del Signore della vigna? Questo mi ha insegnato tante cose. Delle volte noi riceviamo quello che abbiamo pattuito Quello che ci aspettavamo E altre volte vediamo intorno a noi Delle persone che ricevono molto di più Che hanno pattuito la nostra stessa cifra Vanno fatto meno del lavoro Oppure hanno investito meno affettivamente Amorosamente hanno ottenuto molto di più Guardate che questa storia riguarda Questa della vigna riguarda i bambini Tutti i bambini sin dall'inizio della vita Perché il tema dominante dei bambini È il rapporto con i genitori Con la madre e con il padre E il tipo di disponibilità che il padre, la madre, la nonna, i parenti Le persone intorno a loro che li educano Danno a loro I bambini sono sempre molto attenti A quello che ricevono A quello che non viene dato loro E quando non ricevono, non viene dato loro Hanno però paura di essere lasciati soli Perciò giustificano i propri genitori comunque Per loro il discorso fondamentale è Non essere abbandonati Io ho visto durante il mio lavoro Tanti, ma tanti bambini Che avevano subito abusi, maltrattamenti Quando si trattava di denunciare Il dolore che avevano ricevuto Il male che era stato fatto loro Non parlavano Tacevano Difendevano addirittura il genitore Che aveva fatto loro del male E il tema era per non rimanere soli Allora io vorrei parlare dei bambini Sin dall'inizio Vorrei dire che c'è una vita Prima della vita fuori del grembo Che è tutto il tempo dell'attesa della nascita E vorrei dire che sto parlando come scienziato Non sto parlando per poesia Anche se poi è poesia Ci sono milioni di comunicazioni biochimiche Che passano tra una mamma Un bambino e una bambina Prima che un bambino e una bambina Vengono al mondo E quel legame è scindibile Perché sono comunicazioni Corpo nel corpo Due in uno Che rimarranno proprio come imprinting Per tutta la vita Per sempre Quindi quel primo amore O quel primo rifiuto Quella prima accettazione O quel primo desiderio addirittura Di abortire Di abbandonare Passano come memoria Sul corpo in formazione Nel corpo in formazione Del bambino O della bambina Che crescono in grembo alla madre Attenzione a non rifiutare I bambini Attenzione a non far del male I bambini A rifiutarli Mentre sono in grembo alla madre E altra cosa scientifica Sapete che il primo suono Che rimane inciso Nel cervello in formazione Del bambino È il suono della voce maschile Quando mi dicono In realtà Il padre Sì c'è la madre Ma il padre può anche non esserci Ma No il padre ci deve essere Una figura maschile Un suono di voce maschile Che teneramente accarezza Che chiama il nome del bambino O della bambina Che verrà al mondo Si incide per primo Come suono Come impronta Nel cervello in formazione Del bambino E della bambina Sapete che una mamma Col pancione scoperto Ha dentro di sé Un bambino Una bambina Che vedono già le ombre fuori Quando siamo all'ottavo Al nono mese Cioè da dentro Il grembo della madre Questa è scienza Non è poesia Però sembra poesia Vedere le ombre Oltre il grembo della madre Avere con la madre Delle comunicazioni profondissime Al punto tale Che una donna maltrattata Una donna Offesa Umiliata Una donna Che vengono fatte Delle violenze Che viene picchiata Sviluppa Una donna Delusa Una donna Abbandonata Una donna Depressa Sviluppa Un gene Che modifica La situazione Del corpo Informazione Del bambino Per cui Il bambino La bambina Saranno predisposti Per esempio Un meccanismo depressivo Tutto questo Non è Un racconto Diciamo Come la Bibbia Non è Una metafora O una parabola Questa è La spiegazione Scientifica Di quello che avviene In grembo Alle madri Quando aspettano I bambini e le bambine Perché noi teniamo a dire Che è formidabile La difesa Che si deve fare Anche a livello Di ogni nazione Come avviene in Finlandia Nei confronti Delle madri Che attendono Dei bambini e delle bambine Perché si tratta Di preparare Delle persone Che quando verranno Al mondo Saranno predisposte Già ad essere felici A non essere depresse A non essere autoaggressive Tutto questo È una preparazione Allora La prima cosa Che noi vorremmo dire In questo momento Di crisi Io direi Di ricordare Tre piccole cose Che la parola crisi Vuol dire opportunità In greco Ogni crisi È la possibilità È l'occasione Di cambiare profondamente Le cose Secondo Che se le cose Non si cambiano Partendo dal basso Non si cambiano Assolutamente Partire dal basso Significa Rovesciare In Italia Come nel mondo Dalla visione Adultocentrica Cioè La visione Che hanno gli adulti Dei problemi A una visione Bambinocentrica Vi faccio un esempio Quando E io ho tante occasioni Ai medi Affrontare in questo momento Delle coppie Che si separano Cerchiamo di creare Delle situazioni Affinché non si frantumi La famiglia Si cerca di fare Mediazione familiare Si cerca di Però Attenzione Quello che accade Nella Nella divisione È che La giustizia È costruita Non sui bisogni Dei bambini Ma sui bisogni Degli adulti Quindi che cosa succede Che io sento dire Nei tribunali Anche quelli dei bambini I bambini Possono stare Tre giorni Con la mamma E tre giorni Con il papà Come fossero Un pacco postale Che si può spostare Guardate che questo È Avere Sapete perché I tribunali Sostengono questo In questo modo Il papà e la mamma Potranno ciascuno Dei due Fare la loro parte La mamma Potrà prendersi cura E veder crescere I bambini Anche se separa Dal padre E il padre Potrà fare Veramente il padre Nessuno dice Come stanno i bambini Quando tutte le volte Dovranno operare Un distacco Da casa della madre Per andare a casa Del padre E viceversa Nessuno pensa Che invece Si potrebbe creare Una condizione Nella quale I bambini Restano Laddove hanno Le loro radici E i genitori Possono transitare E creare Un'alleanza In favore Dei bambini La mancanza Di visione Bambino centrica Sapete che fa Mantiene il conflitto Tra gli adulti Il figlio è mio Il figlio è tuo Te lo do Te lo le Come se fosse Un appendice Ma i bambini Sono persone Non sono appendici Voi sapete che c'è E' stato sancito Un documento Che si chiama La carta dei diritti Dei fanciulli E delle fanciulle Che è stata siglata New York Nel 1989 Dopo che tante Tante volte Si era provato A fare una carta Dei diritti Dei bambini Bene Sono 52 articoli Che voi dovete leggere Promettetemelo Andate a casa Su internet 52 articoli Si leggono in mezz'ora Sapete che c'è scritto C'è scritta La carta Di diritti umani Dei bambini I bambini Non sono Appendice Della famiglia O cose Che si possono spostare O devono sottostare Se hanno esigenze diverse Dalle esigenze Di adulti Che sono in conflitto Che sono L'un contro l'altro Armati I bambini Sono persone Il primo Di questi Di questi articoli Della carta Dei diritti Dei fanciulli E delle fanciulle Dice sono persone Mi permettete di usare Kabil Gibran Che è un poeta Un poeta bellissimo Un poeta grande Che ha scritto Il profeta Immagino che abbiate Qualcuno di voi Conoscerà questo libro Come si conosce anche Il piccolo principe Nel profeta c'è scritto I vostri figli Non sono I vostri figli Sono i figli Della vita stessa Che attraverso di voi Si esprime Essi non vi appartengono Vengono attraverso di voi Allora Dire questo Dei bambini Cominciare a parlare Oggi di bambini Partendo dal Essi non vi appartengono Vengono attraverso di voi Voi siete i mediatori Di vita Allora Cosa deve fare Uno stato civile Come si fa in Finlandia Quando una mamma Aspetta un bambino Una mamma che ha un compagno Una mamma che non ce l'ha Una mamma sposata Una mamma non sposata Una mamma che sta Per mettere al mondo Una creatura Un bambino Una bambina Due gemelli Tre In Finlandia La mamma Che peraltro Sono tutte donne Che lavorano Quindi c'è Lo stato prevede Che la mamma Possa stare Con il bambino E aiuta anche il padre In questo senso Da zero a tre anni Noi sosteniamo Come fondazione Movimento Bambino Che gli asili Che qui a Reggio Emilia Sono la meraviglia Delle meraviglie Voi siete Ci avete insegnato tanto In tutti questi anni In fatto di scuola Addirittura sostiene Che bisogna fare Degli asili Aperti alle madri Non solo Il bambino sarebbe bene Che restasse con la mamma Con i familiari Ma soprattutto Madre, papà, nonni Eccetera Da zero a tre anni Quindi l'asilo Verrebbe dopo Ma se c'è l'asilo Perché ci sono delle condizioni Di indispensabilità Devo andare a lavorare Non posso stare a casa Preferisco che socializzi prima Ci tengo a che qualcuno Mi lasci degli spazi Della giornata Per andare avanti Bene Gli asili devono essere asili A misura di bambini Sempre aperti Perché la mamma O il papà Possano andare Sempre a contatto Con gli anziani Come l'asilo di Alba Io non vi racconto cose Che o non sono scientifico Non esistono Vi racconto Reggio Emilia Ma vi racconto anche Alba C'è un asilo ad Alba Che imitando Diciamo Il manifesto Realizzato a Reggio Emilia Con gli asili Sapete cosa ha fatto? C'è un asilo Che Assiste i bambini Dai primi giorni I primi mesi Della nascita Con sale di allattamento Sale per bambini Di un anno Sale per bambini Di due Di tre Di quattro C'è un'equipe medico Psicopedagogica Che è preparata Assunta a tempo indeterminato Che viene costantemente Aggiornata e formata Per assistere Bambini e genitori C'è dentro la struttura Un'equipe medico Psicopedagogica Che tutti i giorni Controlla Verifica come stanno I bambini Forma l'equipe Che segue i bambini Cioè gli operatori Accoglie le mamme I papà Che domandano consigli C'è il pediatra C'è il medico Normale C'è il neuropsichiatra Infantile C'è lo psicoterapeuta C'è lo psicologo Allora Quando una mamma Va a un papà Vanno A parlare Dei loro bambini Che sono lì Magari dai primi mesi Di vita Da sei mesi Sette, otto Si trovano delle persone Competenti Che li aiutano Poi c'è un'altra cosa Che voglio dire Ci sono gli anziani Ad Alba Che vanno a lavorare Con i bambini In pratica Insegnano i bambini A lavorare la terra Nel senso di piantare E poi a scolpire il legno E sono gli anziani Sono i nonni Dei bambini Ma sono anche Gli anziani del paese Perché vi dico questo? Perché in questo momento Noi stiamo parlando Tante e tante volte Dei tagli alla scuola Bene La scuola Gli asili L'accoglienza La formazione Per gli insegnanti Per gli operatori L'accoglienza Ai genitori La continuità Nell'assistenza Non si possono tagliare Una visione Bambino centrica Del problema Parte dal Io curo la famiglia Io seguo i familiari I genitori Guardate che una famiglia È fatta Per me è fondamentale Cioè Non si può Capite? Non si può fondare Una società civile E poi stupirsi E non solo Che diventa incivile Con queste operazioni Che si fanno Sulla scuola Non si può Si deve pensare Che i ragazzini Gli adolescenti Che noi avremo Sono il risultato Della famiglia Che noi seguiremo Della scuola Che noi daremo A quei bambini Che poi diventeranno Pre-adolescenti 10-12 anni E adolescenti Da 13 In su Noi dobbiamo Prevenire E per prevenire Bisogna Entrare in contatto Sul territorio Con le famiglie Nella scuola Con le famiglie Dobbiamo formare Allora qual è La prima regola Di una visione Bambinocentrica Formare i formatori Formare i genitori Formare gli insegnanti Formare gli operatori Anche gli assistenti sociali Che sono pieni Di buone intenzioni Ma spesso Mancano di strumenti E sono pochi Rispetto all'esigenza Che c'è Anche gli psicoterapeuti Anche gli psicologi Anche la paura Che molta gente ha Della psicologia La psicologia è scienza Della comunicazione Del comportamento Non dobbiamo aver paura E guardate Scusate se dico una cosa Sulla follia Si parla molto spesso Dei folli Dei matti Eccetera Bene Vi posso garantire Che nella storia Della chiesa E voi lo sapete La maggioranza Dei santi più grandi E delle persone Più eccezionali Sono stati bollati Come pazzi Io ho sentito E ho letto Su padre Pio Che era O schizofrenico O le crisi Per cui aveva Le stimmate Erano crisi Di isteria Allora Io non ho niente Assolutamente Contro la scienza La scienza e la fede Si possono integrare Però bisogna cominciare Ad avere Un modo diverso Di guardare le cose Vedete che Ci svegliamo una mattina Sul giornale C'è scritto Che è saltata La teoria Della relatività E noi Per anni E anni Abbiamo pensato Questo Adesso abbiamo Questo cambiamento Che ci permetterà Di pensare Che c'è una frattura Spazio-temporale Che potrebbe permettere A delle persone Di sapere prima A quello che accadrà Poi Perché i neutrini Arrivano prima Della velocità Della luce Allora io vorrei dirvi Vorrei segnalarvi Che la scienza Non fa nient'altro Che andare dietro Alla realtà Già creata E scoprirne piano piano I misteri E così è la vita La vita va Piano piano Di giorno in giorno Dietro ai misteri Che si scoprono Sapete Perché dico Che i bambini E come dice il Vangelo Che secondo me È il manifesto Più rivoluzionario Che si trovi Io sono una persona laica Sono una persona di sinistra Ma vi posso garantire Che quello che è scritto Anzi Che è stato scritto Dagli evangelisti Sia quelli riconosciuti Sia per quello Che riguarda Evangeli apocrifi Tutto quello Che è stato scritto Su quello che Gesù Ha detto È sicuramente Una grande rivoluzione Basata su tre elementi Fondamentali L'amore Noi ne parliamo sempre Di amore Ma amare È una disciplina Dell'anima Che ti cambia la vita Non è soltanto L'innamoramento L'amore è Una quotidiana capacità Di realizzare Se stessi Nel rispetto degli altri Poi La seconda cosa Che sicuramente c'è È Assolutamente Il non riconoscere Un potere negativo Tant'è vero che Ogni volta che Si presenta il denaro A Cesare Quel che è di Cesare A Dio Quel che è di Dio Ma quello che conta Di più fondamentalmente È che Non si riconosce Un potere Che non riconosce La dignità La dignità La libertà La possibilità Degli esseri umani Quando il potere Diventa Un gruppo di persone Che vogliono gestire Per i loro interessi Per le loro impotenze Per le loro incapacità Per i loro guadagni Tutto il resto Delle persone Quel potere Non è un potere Accettabile E guardate Che avviene anche In famiglia Questo Quando i genitori Sono genitori egoisti La cui possessività È basata sul fatto Che io mi realizzo Se tu Fai certe cose Io ti voglio un campione Perché Così mi sento gratificata Io non vivo Una vita Per darti amore Strumenti E libertà Ma vivo una vita Perché tu sei mio Appartieni a me E quando ti devo dividere Col marito O con la moglie Quando ci sono queste lotte feroci Si vede che dei bambini Non interessa proprio a nessuno Lo si vede dalla giustizia Che non è a misura dei bambini Lo si vede dai genitori adulti Che sono stati dei bambini infelici Perché se fanno Quello che fanno ai figli Non hanno capito Che per un bambino Veder rompere una famiglia È come se si rompesse una bussola Perdono l'orientamento Non hanno più il nord Il sud L'ovest L'est Io non dico che i genitori Devono restare insieme Anche se non si amano Perché non è un sacramento più Il sacramento del matrimonio È l'unione dei coniugi in amore Vuol dire che quello è un matrimonio Che non regge più Ma l'offesa ai figli no Aver messo al mondo dei bambini Significa avere delle responsabilità Per la loro crescita E per la loro capacità di trasformazione Allora io credo che In questo momento Una società civile Riparte proprio Dall'amore e l'attenzione per la famiglia Dando strumenti ai genitori Dando strumenti agli insegnanti Significa anche fondi Dando formazione Agli operatori sul territorio Dando, scusate, modelli Attraverso i mezzi di comunicazione di massa Perché Dovremmo dire Con tutta affettuosità Tra l'altro Lorenza Lei È È proprio Mi pare che sia Bolognese se non sbaglio Si è nata a Bologna Quindi L'Emilia Romagna Fa parte della sua esperienza Abbiamo studiato Abbiamo parlato molte volte Lorenza Lei È il presidente della RAI Per capirsi Ora Questo è molto Questo sarebbe molto importante Perché la televisione Potrebbe cambiare modello O modelli da offrire ai ragazzi E permettetemi questo intervento Ma Se gli operatori della comunicazione Non diventeranno come dei bambini Veramente noi avremo dei problemi gravissimi In breve tempo E li abbiamo già avuti Perché le immagini Che gli operatori della comunicazione Non fanno che mandare costantemente Per esempio nei telegiornali Sono immagini di istruzione Di morte Di orrore E il bollettino delle più grandi disgrazie Non solo Ma non un bollettino Spiegando che succede Ma un bollettino di immagini Guardate che le immagini Hanno una ferocia formidabile Si incidono nel cervello Ti rimangono dentro Ci sono donne Che allattano il bambino Guardando la televisione Voi lo sapete Ne abbiamo fatto su 100 mamme Chi allattava il bambino Guardando la televisione O facendo altre cose Mentre allattava E chi invece Si concentrava Sull'allattamento del bambino Sapete che più della metà Delle donne Che abbiamo intervistato Tutte giovani madre Allattavano guardando la televisione Quindi il guardare il bambino Gli occhi negli occhi Assisterlo Eccetera eccetera Diventava Ti assisto Ma intanto guardiamo Alla fine La mamma guarda beautiful Alla fine il neonato Guarda beautiful Rimangono delle immagini Terribili E tutto quello che si vede In televisione Sin da quando si è piccini Perché la televisione È un convitato di pietra Sta lì aperta Tutto il giorno Molto spesso la apri Senza nemmeno controllarla Come fosse la radio E tutto quello che vomita fuori Sono immagini 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 Allora anche i mezzi Di comunicazione di massa Devono capire Che la ferocia Costante Che mettono Nei loro programmi Dove ci sono Sparatorie continue Aggressioni Morti Delitti Noir Eccezionali Notizie terribili Sono tutte cose Che rimangono nei bambini Come pure nei bambini Rimane l'ottimismo Rimane la gioia Se tu fai vedere loro Delle cose Che permettono Di scoprire un mondo Di inventare dei giochi Di amare di più Di amare meglio Di trovare delle soluzioni Per il sapere Di amare il sapere Questo non avviene Sapete come vengono utilizzati I bambini Tanto per Voi lo sapete Io canto E ti lascio una canzone Noi siamo tutti ammirati A sentirgli cantare i bambini Perché tu ti metti davanti A queste trasmissioni E trovi che sono Bravissimi i bambini Ma in quel momento Quei bambini Stanno servendo Da Come dire Sono persone Incapsulate Nel ruolo Di farci divertire Sono gli adulti Che si divertono La maggioranza A guardare questi bambini Che E cantano benissimo E sono pieni di generosità E saltano E sono allegri Ed è bello È tutto molto bello Perché emotivamente È piacevole questo Ma A questi bambini Alla fine di esperienze Di questo genere Se non c'è continuità Non rimane nulla Rimane una cosa Che nessun adulto Sopporterebbe Lo stress Di aver avuto Attenzione E poi di perderla Perché Uno su mille Ce la fa Direbbe Morandi Uno Ragazzino Ragazzina Vanno avanti Gli altri Finiscono questa esperienza E spesso La finiscono molto male Perché hanno avuto Un momento di grande Intensità Altri momenti Speranze Movimenti Attenzione Invidia da parte degli altri Ah tu hai fatto questo E poi di punto in bianco Tutto questo Si spegne Non diventa un lavoro Un laboratorio Allora io mi chiedo Perché Nelle scuole Che possono essere Centri culturali Polivalenti Aperti Tutto il giorno Noi non mettiamo Laboratori di musica Laboratori di disegno Di grafica Laboratori di danza Facciamo questo Vedete quanti Vedete che finisce subito Amici Perché Il meccanismo è Giustamente Che la televisione Ti dà una visibilità E ti dà la possibilità O di cantare O di esprimerti E chiaramente i ragazzini Sono molto innamorati di questo Ma i ragazzini lo devono fare tutti i giorni Questo Devono avere la possibilità Con la scuola Con le materie Di fare anche questo Cosicché non diventa un problema Di emergere Per avere successo È quello che abbiamo detto Alle ragazze di Miss Italia Quest'anno noi Per la prima volta Abbiamo fatto un'esperienza Siamo andati lì A parlare Per tre giorni di seguito In full immersion Con queste ragazzine Perché sono ragazzine 19, 20, 21 anni E abbiamo parlato con loro Della bellezza Dell'alimentazione Abbiamo parlato con loro Della famiglia Abbiamo parlato con loro Di cosa pensano Sia necessario Per diventare Delle persone adulte Fare Che cosa loro farebbero E che cosa non vorrebbero mai fare Sapete quello che noi abbiamo rilevato Questo per dirvi Come la gente è sensibile A tutto quello che accade Attraverso i mezzi di comunicazione Di massa E in politica Tutte le ragazze Ci hanno tenuto a dire Io non farò mai la mantenuta Io non sono una escort Io faccio questo concorso di bellezza Ma non è che io poi Sapete perché? Perché è talmente Brutto il panorama intorno Sono talmente orribili Le notizie che arrivano Che queste ragazzine Hanno tenuto a sdoganarsi immediatamente Che sia vero o non sia vero Non è importante È importante che loro hanno detto subito Io non sono una persona Che farebbe Vendita del suo corpo Io non sono una persona Che per arrivare Si prostituirebbe Io non sono una escort Hanno avuto proprio paura Paura di essere Fraintese E un'altra paura che hanno avuto Dicendo Io sono la diplomata E tutte diplomate erano E la maggioranza Iscritta all'università Ma quello che hanno detto Molto chiaramente Quando io ho notato Ma quanto pesi Ma che rapporto con il cibo Tutte hanno Stesso a dire Guarda che io mangio Mangio moltissimo E se sono magra Non dipende dal fatto Che io O sono bulimica Cioè mangio e vomito Oppure sono anoressica Cioè Io ho sentito Con queste ragazze Con le quali Io e la mia echipa Abbiamo lavorato a lungo Per ore e ore E che hanno risposto A 300 domande ciascuna Col questionario di Proustan Approfondito Ho sentito che C'è come una rivolta Da parte delle ragazze E delle giovani Di essere confuse ormai Con una specie di mercato Che non è accettabile Un mercato Come dire Che mette a rischio Anche le conquiste Che hanno fatto le donne Che fa tornare indietro La cultura e il paese Dovete fare molto attenzione A questo Perché Con i meccanismi Orripilanti Delle escort Delle feste Dei festini Del gossip Eccetera Si fa fare un passo indietro Ad autonomia A libertà A crescite Che i ragazzi hanno fatto E sapete cos'è questo? È una cultura Contro l'infanzia Contro l'adolescenza È una maniera di fare cultura Dimenticando completamente Completamente Che invece I ragazzi Hanno bisogno Di punti di riferimento Di regole Di norme Per crescere Hanno bisogno di no E di sì Hanno bisogno di esempio Allora Se noi non diventiamo Sapete che queste sono cose Che le potrebbe dire Tranquillamente Anche mia nonna Mia mamma Che ce l'abbiamo tutti Nel cuore queste cose Ma sono cose Che purtroppo Non vengono praticate più O vengono praticate poco E sono diventate impopolari Allora Io vorrei chiarire Che non è che prima In famiglia Non succedessero Delle cose negative Che non ci fossero aggressioni Che le donne Non prendessero Le botte Che i bambini Crescessero senza avere Problemi All'interno della famiglia Magari anche di pedofilia C'era tutto questo Ma era tutto nascosto Oggi è tutto scoperto Oggi noi abbiamo Viviamo In una era Dove le nuove tecnologie Cioè internet Mettono le persone In condizione di sapere Un'infinità di cose Tante cose Troppe cose Allora Tutte queste cose Vanno regolamentate Ma vanno prese in considerazione Perché noi finalmente Per la prima volta Noi adulti Lasciate perdere i bambini Che sanno navigare meglio di noi Noi per la prima volta Come adulti Siamo in grado Di sapere Cos'è l'ombra Che c'è in ciascuno di noi E nel mondo L'ombra significa Tutto il danno E tutto il male Su internet c'è Tutta la scienza Tutte le cose Le soluzioni Detto le indicazioni E contemporaneamente C'è un mare Di cose orribili Che vengono messe In internet Ci sono torture Gli animali C'è pornografia C'è pedopornografia Ci sono scene di guerra Allucinanti Ci sono proprio Tradimenti E accuse E calunnie gravissime Capite che è successo? Abbiamo trovato Abbiamo messo Appunto Noi Come società Noi come adulti Abbiamo messo appunto Uno strumento Che disvela E sapete a chi L'abbiamo messo in mano? Ai bambini piccolissimi Che li sanno usare I bambini di oggi Sono nativi Digitali Nascono con la capacità Immediata Di usare gli strumenti Delle nuove tecnologie Noi dobbiamo Regolamentare Il mondo Virtuale E permettetemi di dire Alla fine di questo discorso Qualcosa che Secondo me È molto importante Diventare come i bambini Significa Guardarsi Non soltanto dentro Se siamo adulti Ma ricordare come siamo stati I bambini Perché Come siamo stati i bambini Siamo diventati adulti Se non abbiamo avuto amore Se ci sono state Delle aggressioni Dei rifiuti Se abbiamo avuto Se abbiamo avuto dei maltrattamenti Se abbiamo avuto Degli abbandoni E degli stacchi Se non abbiamo potuto Vivere tutti i passaggi Della nostra infanzia Noi Questi drammi Ce li portiamo dentro E la maniera migliore Che abbiamo per educare I nostri figli È partire da noi Conoscerci E cambiarci Fare del bene a noi stessi Per farlo a loro E non c'è mai un tempo Che sia finito Questo lo possono fare Benissimo anche i nonni Anzi Vorrei dire una parola Per i nonni Ci terrei a ricordare Che anziani e bambini Sono Proprio Alba e tramonto Che vanno sempre insieme Date Ai vostri figli La possibilità Di stare Con le persone Anziane Con le persone Già grandi Che hanno passato Già tanta vita Perché i bambini Hanno proprio bisogno Del nonno E della nonna Sapete che I primi dolori Della vita dei bambini Tante volte Sono proprio la perdita Di un nonno Di una nonna Bene Voi dovete dare Oltre a una famiglia Oltre a genitori giovani Che hanno energie Dovete dare L'anziano Perché l'anziano Ha storia da raccontare Ha memoria Noi siamo La nostra memoria Se noi dimentichiamo Guardate un malato D'Alzheimer Qual è la tragedia D'Alzheimer Che la persona Si ammala E lentamente Perde La memoria E non è più Non è più Non sa più chi è Non è più nulla Non riconosce Non perde Noi siamo La nostra memoria Sapete che la memoria Comincia dalla memoria Della vita prenatale C'è una memoria Del corpo E c'è una memoria Memoria Delle persone Delle cose che abbiamo sentito Dei fatti Dei fatti che sono avvenuti Se noi coltiviamo E rispettiamo la memoria Noi possiamo fare Veramente un mondo Diverso Per i bambini Sapete perché Perché noi abbiamo avuto Dalla storia Tanti esempi Di come potrebbe andare Il mondo Se volessimo farlo andare bene E mi rivolgo alle donne Proprio come tema importante Se è vero che tutti noi Dobbiamo diventare come Quando da bambini Aspettavamo di fare dei passaggi E di essere Sostenuti Amati Aiutati Contenuti Di avere punti di riferimento Di quale donne Che il mondo Aspetta Che loro La smettano Di farsi la guerra Tra donne La misoginia Esiste Ed è Una Aggressività profonda Degli uomini Che temono le donne Nei confronti delle donne E può arrivare Fino a forme durissime Di violenza Di abbruttimento Di negazione Della qualità Del femminile E delle donne Ma L'inimicizia Tra le donne E le donne È il peggio Che si possa immaginare Le donne Che sono nemiche Delle donne Nemiche Soprattutto di quelle Che o emergono O riescono O fanno Ed è un'inimicizia È un'inimicizia Che taglia il mondo Allora io Vorrei dire alle donne Che se Intanto che Sono la maggioranza Degli esseri umani Sul pianeta E che se tutte le donne Si dessero una mano Se ci fosse Una grandissima Possibilità femminile Se Santa Chiara Desse una mano Come l'ha data Santa Chiara San Francesco Io credo che le cose Cambierebbero profondamente Le donne possono La cultura delle donne Quella dei bambini Può trasformare Radicalmente il mondo Perché può realizzare Un ideale Che chiaramente È francescano Ma non è soltanto francescano Quello della pace Quello della fratellanza Quello della sorellanza Allora io credo che Non so come siamo Allora Sono arrivata Sì Sono arrivata Scusate ma ne volevo talmente Mi permettete di chiudere Con una cosa divertente Per dirvi come I bambini Noi dobbiamo ricominciare Dai bambini Noi stiamo raccogliendo Stiamo scrivendo Facendo con i lavori Dei bambini Un libro che si intitola Il Vangelo secondo i bambini Allora Voi sapete che durante I compiti a scuola Alle elementari Alle medie Alle superiori Si dice ai ragazzi Si fa Non so Si prende un argomento religioso Si dice sviluppa Questo argomento religioso Voi non potete immaginare Come è incredibilmente Meraviglioso Ma poi divertente Ironico Il Vangelo rivisitato Dai bambini Perché i bambini Dicono delle cose Allora adesso vi faccio sentire Un brano Vi dico a voce Un brano Di una bambina di 9 anni Che si chiama Andreina Noi abbiamo fatto Con queste bambine Quinta elementare 9 anni Aveva 9 anni e mezzo Abbiamo fatto un laboratorio Sui sentimenti Tra i vari sentimenti Quelli positivi Negativi Uno era l'ingratitudine Questa bambina ha scritto Esattamente le parole Che vi dico Rivisitando La Bibbia L'inizio della Bibbia Molto ingrati Scrive Andreina Sono stati Adamo ed Eva Con Dio Perché Dio Aveva dato loro Il paradiso terrestre E avevano tutto Ma proprio tutto Anche gli animali feroci Che allora non erano feroci Per niente Però Quando è arrivato Il serpente Ne Adamo Ne Eva Hanno chiamato Il Signore Gli hanno detto Signore c'è qui Un buffo serpente Che ci sta dicendo Che se mangiamo Dell'albero Del bene e del male Diventeremo forti Come te Saremo uguali a te O l'hanno chiamato E hanno mangiato la mela Così Dio li ha cacciati Però anche Dio È stato troppo severo Perché Perché Che probabilmente Adamo ed Eva Erano intimoriti Perché lui aveva dato loro Tutto e troppo Guardate questo finale A noi ci ha lasciato sconvolti Perché l'intelligenza Eccezionale Dice ma tu mi dai tutto troppo E io alla fine come faccio A non essere un rancoroso A non averci la sindrome Del beneficato rancoroso Non riesco a restituirti niente L'unica cosa che mi viene in mente È essere come te Questa piccina di nove anni Ha rivisitato E ha interpretato Guardate la storia Signore c'è qui un buffo serpente Che ci sa È carinissima Solo i bambini Sanno trovare Le chiavi di lettura C'è tutto Guardate In questa piccola storia Di questa piccina di nove anni C'è Molto spesso Gli esseri umani Saltano i passaggi I passaggi Della comunicazione Se Adam e Deva Avessero domandato A lui Cioè qui il buffo serpente Che ne dici Come mai Probabilmente Sarebbero ancora Nel paradiso terrestre Del grembo materno Allora noi abbiamo detto A questi bambini Quando abbiamo detto Che si cresce con i perché Si cresce con le domande E che l'errore Di Adam e Deva Era stato Non fare domande Perché dobbiamo diventare Come i bambini Perché dobbiamo interrogarci Perché i bambini Crescono con i perché E vogliono delle risposte Noi Man mano che diventiamo adulti Non ci poniamo più perché E non ci diamo più risposte Grazie 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 moltissimo Veramente con tutto il cuore Un ringraziamento speciale Un ringraziamento speciale Al bambino che c'è in voi Il mio bambino saluta I vostri bambini interiori Grazie Ringraziamo Maria Rita Parsi Per tutte le belle cose Che ci ha detto Per la speranza Che ci ha dato E anche per la passione Che è riuscita ad infonderci Con questa costruzione Con questa costruzione Di un nuovo mondo A misura di bambino Che di per sé potrebbe Essere molto semplice Ma che in realtà Come lei ci ha dimostrato È molto più difficile Perché ci invita A guardarci dentro E a guardare all'essenza E ai valori Che animano La nostra vita E alle relazioni Che la rendono ricca E feconda La ringraziamo anche Perché ha un quarto d'ora di tempo E ha finito proprio Per sentire le vostre domande Noi abbiamo un microfono Quindi vi invitiamo A porre le vostre domande A chiedere magari Qualche consiglio Qualche A fare qualche comunicazione Però vi chiediamo In termini molto brevi E molto semplici Maria Rita Ha già visto qualcuno Bisogna però venire lì Cosa deve fare Cosa può fare Un bambino oggi Per diventare come Il bambino della fiaba I vestiti dell'imperatore Per riuscire a dire Il re è nudo Soprattutto oggi Quando il re Passa la maggior parte Delle proprie ore A essere nudo E a non essere vestito Con i vestiti Da primo ministro Rapidissimamente Dico che I bambini oggi L'unica cosa Che possono fare Oltre a gridare Come nella fiaba Di Christian Andersen Il re è nudo Mentre tutti stanno zitti Ed è evidentemente nudo Dovrebbero anche Essere ascoltati Perché loro Delle piccole soluzioni Ce le avrebbero Io sono reduce Due settimane fa Dall'incontro Dei ragazzi Che avrebbero ripreso A fare Il liceo classico Avano fatto Il due anni Del ginnasio Del liceo classico Di un liceo classico Di Roma E ho detto loro Perché non mettete Per iscritto Quello che voi vorreste Il paese che vorrei Noi adesso Sul nostro sito Pubblicheremo Il paese che vorrei Ci sono tutte le risposte Del paese che vorrebbero E io posso dirle una cosa Che quelli sono i vestiti Dell'imperatore Come rivestire Un adulto O una realtà Talmente squallida Talmente sotto gli occhi Di tutti Che o cambia o cambia Perché Veramente bisogna rivestirla Bisogna ricoprirla Per un problema di pudore I ragazzi L'hanno proprio Segnato Sì Certo Io credo anche Che noi però Dimentichiamo Che i bambini Sono risorse Noi non ci Non ascoltiamo L'attività che noi Stiamo facendo da anni È andare nei posti E far parlare loro E riprenderli E lavorare con loro Per far capire Che gli strumenti Della televisione Non sono per fare Soltanto Quegli show Scemi O il grande fratello Ma servono A veicolare le idee E ci sono sempre più bambini Per bambini intendo Preadolescenti Anche adolescenti Che cominciano a fare questo E ci sono sempre più insegnanti Che si formano Cioè Non so come si chiama lei Come si chiama? Pietro Che bello Edifichiamoci la chiesa Allora Pietro guardi Io sono sicura che Ripartendo dai ragazzini Ripartendo dagli insegnanti Dai genitori Dalle persone che hanno volontà Di farlo attraverso i ragazzini Io credo che cambierà Grandemente la società Noi dobbiamo Però ricordiamoci Che noi abbiamo un voto Ricordiamoci che contiamo Ricordiamoci che I bambini guardano a noi Come persone Da amare Cioè Questo è fondamentale Cioè Diamo l'esempio Ci sono altri? Ah vai Vado io Lei ha parlato di amicizia fra donne No? Però secondo me L'amicizia Non è possibile Fintanto che viviamo In una società così maschilista Noi vediamo i nostri parlamentari Vabbè qui abbiamo Angela che Vabbè insomma Però pochissime riescono Perché gli uomini Ci bloccano la strada Secondo me Allora io direi che In questo momento Come si chiama? Luisa Luisa senta È vero che In molte occasioni Gli uomini Anzi In tante parti del mondo Avviene solamente questo Bloccano la strada le donne Però è vero anche che in questo paese Noi dobbiamo finirla Di No ma non solo Ma anche politicamente Noi dobbiamo dire molto chiaramente Agli uomini Essendo però presenti Facendo però il nostro lavoro Alleandoci tra donne E facendo un'azione di Correttezza anche verso Un certo tipo di donne Perché La politica Sostiene delle donne Che somigliano agli uomini Nelle cose peggiori Quindi direi che Non mi sembra proprio la cosa Giusta da fare Allora io direi che Le donne sono donne Gli uomini sono uomini Il cervello femminile È diverso dal cervello maschile Insieme facciamo una forza enorme Non ci dobbiamo Noi dobbiamo riorganizzare Il femminismo è stato un movimento Come tutti i movimenti Futurismo E poi finito Adesso noi abbiamo da fare Un movimento culturale delle donne Riprendendo quei cambiamenti E però facendo ancora strada Io posso dire solo questo Perché non è il tema di oggi Però lo dico alle donne Guardate nella vostra vita quotidiana Quanto siete poco amiche Delle altre donne Questo glielo dico Luisa Perché è vero Ah pronto? Una domanda veloce Negli anni scorsi Si è sempre dibattuto Il problema della figura Della psicoterapeuta Della psicologa Fissa nelle scuole Lei crede che Una presenza costante Monitorata Diciamo costantemente Possa essere Di sopporto Al lavoro dell'insegnante Perché ci sono state Sempre delle tesi Contrastanti Su questo ruolo Io personalmente La vedrei favorevole Vorrei sapere La sua opinione La mia opinione Come la sua Come si chiama di nome? Guglielmo 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 Io non solo la penso come lei Ma noi Negli anni settanta Parlo degli anni settanta Perché C'eravamo Chi c'era? C'era Insomma se lo ricorda Abbiamo proposto addirittura Che nelle scuole Ci fosse un'equip Interdisciplinare Formata da Insegnanti Che avrebbero avuto L'aiuto di psicologi Di assistenti sociali Del neuropsichiatra infantile Che era nelle ASL Sul territorio E l'equip Doveva essere Stabilmente nella scuola Perché poteva Non solo aiutare Bambini Genitori O insegnanti In difficoltà Ma poteva segnalare Quelle situazioni a rischio Prevenendo le quali Probabilmente Con la prevenzione Si sarebbero evitate Tante situazioni a rischio Io non solo sono d'accordo Dico che è indispensabile Perché gli insegnanti Non possono fare Anche gli psicologi Anche gli assistenti sociali Anche i neuropsichiatri infantili Insegnanti sono insegnanti Allora Il lavoro deve essere D'equip Si deve fare E lo dico a Reggio Emilia Dove lo sapete benissimo Voi l'avete fatto per primi Siete stati i primi in Italia Ad averlo fatto Sono Cristina Sono un operatore sociale Riflettevo su due affermazioni Che lei ha fatto Non è una società È una società adultocentrica Non è una società A misura di bambino Non è una società Nemmeno A misura di bambino disabile Di ragazzo disabile Di persona disabile Quindi Le difficoltà Le fragilità della persona Non sono Prese in considerazione Sostenute Nella misura in cui ci sarebbe Appunto Nella misura in cui sarebbe necessario Seconda cosa Molto interessante Quello che lei diceva Ovviamente Sarebbe necessario Partire da noi stessi Cioè Iniziare a mettersi in contatto Con se stessi I propri vuoti I vuoti affettivi Che penso più o meno Ci siano nell'esistenza Di ciascuno E quindi imparare A conoscersi Anche ad accogliersi Anche a rispettarsi Forse Questo ci consentirebbe Di accogliere anche gli altri Ecco Nelle proprie difficoltà Nelle proprie Povertà Ecco Guarda Hai detto Hai detto una cosa Cristina Intanto mi fa piacere Che sei un operatore sociale E poi un'altra cosa Che ti dico col cuore Che se la gente Comincia da sé Comincia a capire Quanto è stata importante La sua storia infantile Quali sono state I fatti Che hanno segnato E cambiato E determinato La formazione Della propria personalità Se la gente Comincia ad avere amore Per se stesso Nel senso di rispetto Dignità Il cambiamento è sicuro Perché Se tu ti conosci E ti ami E ti rispetti E autostima Ovviamente Tratti i bambini diversamente Tratti gli adulti diversamente Tratti te stesso diversamente Quando scegli le persone Che governano Cioè Un cambiamento si richiede Però la gente Deve avere strumenti Non deve avere paura Della psicologia Delle scienze sociali Della psicanalisi La gente deve Fare un passo avanti La pedagogia La sociologia Sono vostre Sono strumenti La statistica La lettura La letteratura E tutta roba che forma Allora tutto è vostro Non ci sono gli psicologi Ci sono delle persone Che hanno studiato Questa scienza E che è della comunicazione Del comportamento E ve la mettono a disposizione Ci sono gli operatori sociali Che attraverso la sociologia Hanno imparato Come trattare I problemi Della società Noi dobbiamo usare Il meglio che abbiamo Noi siamo società evolute Che hanno un patrimonio Culturale incredibile Mettiamo a servizio nostro E dei bambini Che tutto cambia Dobbiamo avere Questo ottimismo Del sapere Dobbiamo averlo Comunico che Nei vari gazebi Che sono sparsi Nella piazza Ci sono Varie possibilità Di acquistare I libri di Maria Rita Ma anche Tanti altri Libri E DVD E varie possibilità Appunto Di Media Strumenti di comunicazione Francescana Vuoi dire una cosa Per la mia maestra? Allora Vorrei andarmene con Cinque sassolini Nello stagno Che vorrei gettare Di riflessione per voi Di riflessione per me Anzitutto vorrei dire che Al di là dei miei libri Ci sono sicuramente Altri libri da comprare Ve li vorrei dire Prima di tutto I libri della mia maestra Francesca Morina Bele Che è stata preside Che è morta da poco Preside della facoltà di psicologia Dell'università di Firenze Con la quale abbiamo lavorato Per anni e anni e anni Lei mi ha insegnato Come anche mia madre Come altri maestri Veramente come lavorare Con questi strumenti Nella massima umiltà C'è una cosa bellissima Che Francesca ha scritto Su San Francesco Lei si chiamava Francesca Morina Bele Ha scritto su San Francesco Ed è una cosa bellissima Perché la psicologia Di San Francesco Come strumento Per veramente agire Dal punto di vista Del comportamento Ci ha fatto proprio La psicologia di San Francesco Poi vi vorrei ricordare Sante Xuperi Il piccolo principe E' inutile che vi dica Che il Vangelo va riletto Anche a nome di Cioè è eccezionale E vorrei ricordarvi Cabil Gibran Cabil Gibran il profeta E tutti i lavori E poi Se qualcuno volesse leggere Piaget La Montessori Qualunque opera Di queste meravigliose figure Uno francese Piaget Ma la nostra italiana È una donna eccezionale Che antipo Quella era una donna da Nobel Allora diamo Amoglielo col cuore Riconoscendo le qualità E le capacità Che ha avuto E poi Vorrei dirvi una cosa Che Il manifesto Del movimento bambino Del nostro Movimento bambino Inizia dicendo I bambini sono poeti Agiscono Perché poeti? Perché poeta È una parola Radice greca Che significa Colui che fa Colui che agisce Allora diventate poeti Come i bambini In maniera che Ci sia poesia Nel mondo Ci sia azione Azioni positive E poi Per chiudere Ricordate che i passerotti Non fanno rumore I passerotti Sono i bambini Sono l'oro E il petrolio Del mondo Sono l'anima Del mondo Non bisogna far male Ai bambini Bisogna riconoscere Il proprio bambino Interiore E ricordare che i bambini Intorno a noi Come gli anziani Sono dei punti forti Della società civile Grazie Un ultimo ringraziamento Prima che andiate via E anche un invito Maria Rita Ci ha detto Di diventare Operatori Di pace E di bene Noi ci salutiamo Con questo saluto Francescano Che ha in sé Tanti altri inviti E tanti valori Pace bene a voi E ai vostri bambini E alle vostre famiglie E a tutti quanti noi